Da sabato non è più ufficialmente il presidente del Tribunale di Treviso, ma Giovanni Schiavon, 44 anni al servizio della giustizia, non ha ancora smesso di lavorare, perché dice sono pieno di fascicoli da chiudere, ma nonostante le sue dimissioni, Schiavon è deciso ad andare a fondo e ha già annunciato che impugnerà l'ammonimento in partito dall'autogoverno della categoria per aver presieduto, sempre secondo il CSM, 5 collegi pur non essendo tabellato. Ma fa scaldare di più l'ormai ex presidente della giurisdizione trevigiana e la notizia del suo trasferimento, arrivata ancora prima che il CSM potesse emettere una sentenza, un appuntamento a cui sembrava non si dovesse neppure arrivare e a cui domani presenzerà il difensore di Schiavon. Un addio burrascoso con accuse decise e mirate all'autogoverno della categoria, oltre che all'Associazione Nazionale Magistrati. Parole che hanno suscitato le reazioni, oltre che della responsabile dell'interno, Anna Maria Cancellieri, anche del consigliere Paolo Corder, a cui non sono piaciute le polemiche sorte intorno alla vicenda. Consigliere Corder ricordo e rispondo dicendo che trovo molto più grave il fatto che il Consiglio Superiore abbia fatto capire l'esito di un'udienza prima ancora che si tenga, prima ancora di sentire la mia versione e prima ancora di accertare i fatti. Questa è la cosa grave e disdoro per la magistratura, non certamente la protesta che io ho fatto per sollevare questo grave e incivile problema. Esclusa poi la possibilità di candidarsi come futuro cittadino della città, Schiavon non nasconde un certo apprezzamento per le idee di Italia Futura, partito di cui ha dichiarato condivido il programma, e aggiunge delle scuse poi per il termine borbonico utilizzato per descrivere un sistema della giustizia. Tutto da rivedere. Non credo che ci penserei, non credo che avrei le doti per fare il sindaco in una maniera più assoluta. Altre cose, ma il sindaco bisogna esserci tagliati in modo particolare. Io non ho queste qualità. Ho usato il termine borbonico per dire come retrivo, ecco, in questo significato. Giustamente alcuni hanno protestato perché ho usato un termine che ritengono offensivo. Mi voglio scusare, naturalmente non è che mi riferissi allo stato borbonico in senso storico, ma per l'uso che a volte viene accreditato anche nei vocabolari. Però mi scuso, non volevo offendere i cittadini del Sud. Grazie a tutti.